Le persone che andranno a vedere il tuo film, cosa gli vuoi dire? Allora, il 27 ottobre esce Maschi contro Femmine. Mi raccomando, dopo, andate a casa, fate l'amore con la vostra fidanzata, non vi mettete a litigare sugli argomenti del film, perché il film si presta moltissimo al dibattito. Andate a casa, fate l'amore e ciao! Maschi contro Femmine.